Abbiamo avuto qualche occasione per sfruttarla Però onestamente il pareggio reputa una cosa giusta Però sai, quando capitano gli episodi li devi sfruttare Sono contento, sono contento per i ragazzi Reazione d'orgoglio Si meritano questo e altro, questi ragazzi sono da elogiare dal primo all'ultimo Sono orgoglioso di loro e mi hanno fatto un grande regalo Chiederò sempre di più, anche perché sono dei ragazzi volenterosi Non hanno paura di giocare Perché non permettersi il lusso di chiedere di più a questi ragazzi L'importante è che stanno tranquilli, che giocano tranquilli Che non li fanno venire altri tipi di pensieri E d'altronde è una cosa che sto chiedendo da 3-4 settimane Un po' di tranquillità per questi ragazzi che ci stanno dando l'anima per questa maglia I tifosi l'hanno capito e ci sono stati vicini Non finirò mai di ringraziarli Palermo è ancora lontana, godiamoci questo pareggio Che è un risultato che ormai mancava da tanto Ripeto, contro una grossissima squadra Ripeto ancora, questi ragazzi sono sempre più da elogiare giorno per giorno e non da criticare Sto cercando di tenere nell'ovatta questo gruppo E lo farò fino a che me lo permetteranno In un momento in cui non me lo permetteranno più non ci posso fare nulla Io sono e resterò l'allenatore di questa squadra fino a quando me lo permetteranno Un pareggio